Mi rimetto in viaggio. Buona fortuna. Troverai le porte sempre aperte qualora volessi tornare. Non temere per i tuoi amici. Ci penseremo noi. Ti ringrazio. Che il sole ti protegga, Roy. Spero che trovi quello che cerchi. Spero che cerchi. Come a tuttire la caduta. Bene. Ecco l'Ovest proibito. Una nuova frontiera da esplorare. Le coordinate della Guglia mi porteranno da Silence e Ade. E forse da una copia di Gaia. Non sarà una passeggiata. La piaga, le tempeste, i cavalcamacchine di Regalla. Ma dovrò superare tutte le sfide. E trovare il modo di aggiustare il mondo. Come voleva Elizabeth. Una donna a capo dell'Indoscata, Regalla. Controllava moltissime macchine. C'è solo un'altra persona con quelle conoscenze. Silence. Ma cosa ci guadagnerebbe? Perché aiutare i ribelli Telakt? Questo finisce nell'asporta. Qui potrei provare l'alascudo. Perché faticare quando puoi planare? Apprezzato. Ehi. L'alasporto. Grazie. Oh, infrescante, più o meno. Oh, infrescante. 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 Questa è la tua attività, quindi. Oh, infrescante. 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 Grazie a tutti. 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 Meglio dare una ripulita prima di guardarsi intorno. No. Grazie a tutti. No. 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 Sì. Sì. Un ponte mobile. Potrei attraversarlo. Una metà è in posizione. Come abbasso il resto del ponte. Zaino pieno. Posso metterlo nella mia scorta. Controllando il ponte con il focus, potrei scoprire qualcosa. Sembra che ci siano un paio di punti deboli, dove le corde si agganciano al ponte. Bene. Ponte abbassato. Una scavazzanna. Sembra caduto in un tunnel. I ribelli tenevano quegli scavazzanna. Le macchine sono cadute nel tunnel, che poi è crollato quando l'hanno attraversato. E se fossero state le cariche ad aprire la voragine? Torno ad Aspra Catena e riferisco a Javad. Torno ad Aspra Catena e riferisco a Javad. Torno ad Aspra Catena e riferisco a Javad. I ribelli hanno un accampamento Oltre i recinti per le macchine Che intenzioni avranno? Allo che valta macchine di pattuglia Farò attenzione Combatti senza onore C'è qualcuno? C'è qualcuno? Il fione attraversa l'accampamento Potrei usarlo per intrufolarmi? C'è qualcuno? 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 C'è hai anche la squadra sull'ospirations? È crap! C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Devo stare ferma. Un collo lungo. Con l'override otterrò dei dati sull'area circostante. Ti vedo, Nora. Ti vedo il monte Mabide! La vedo! Oh my God! E' ritornata, vero? Andiamo alla ricerca. Una di queste strutture non c'è più di una morte. Scorgo una freccia! Molto meglio. Oh my God! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Fidelity Nakt, ascoltatemi. So che un soldato di questo campo ha provocato apertamente uno dei figli di Prometeo. Ricordo a tutti che i nostri alleati hanno l'onore di fornirci le macchine che noi cavalcheremo fino alla gloria. Il prossimo idiota che reca loro disturbo sarà sviscerato e lasciato a morire nel deserto. Questo è l'ultimo avvertimento. Dici che basterà? Sì, dovrebbe impedire ai tuoi uomini di litigare con i miei. Te ne sono riconoscente, Regalla. Che il patto ci dia la vittoria. Quindi, Regalla non è sola. I figli di Prometeo le hanno permesso di controllare le macchine. Sì, dovrebbe impedire ai tuoi uomini di più. Sì, dovrebbe impedire ai tuoi uomini di più. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.